Sono stati consegnati questa mattina i lavori di completamento della pista ciclabile qui nel comune di Silvi, opera che sarà lunga, oltre due chilometri, con un obiettivo importante, ovvero quello di riqualificare la zona del lungomare di Silvi. Sì, è vero, siamo contenti, è arrivato il giorno X, finalmente vedremo iniziare quest'opera che ci ha tenuto così impegnati e ha interessato tutta la nostra collettività. Siamo orgogliosi perché è un'opera strategica che ci servirà per proiettarci verso un futuro migliore e più sostenibile sicuramente. Ecco, assessore Giancola, un'opera che avrà costo complessivo di oltre un milione di euro, però ci sono state anche delle polemiche dei mesi scorsi riguardante l'abbattimento dei pini che comunque saranno sostituiti da altri alberi. Sì, è vero, c'è stato un lungo dibattito sulla questione del verde. Ci tengo a precisare che nessuno vuole abbattere nulla. L'unica cosa che è sembrata molto intelligente era quella di dare un incarico a un esperto che ci dicesse qual era lo stato di queste alberature presenti sul territorio. Perché è indubbio che se ci sono delle situazioni un po' pericolose, precarie, questa era l'occasione per poterle in qualche modo sostituire e iniziare a pensare a come potesse essere il nuovo viale per il futuro. Ecco, opera che sarà completata entro 300 giorni, quindi entro settembre 2021. Sì, è vero. Ovviamente è indubbio che i lavori sicuramente, siccome procederanno all'otti e saranno collaudati step by step, in prossimità dell'estate i lavori si fermeranno per non creare problemi al turismo. Questo è indubbio, insomma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.